Che ora è? Scusa, ma che ora è? Che non lo posso perdere, l'ultimo spezzacolo. Fine del mondo, immundo, visione diretta da San Pietro per l'occasione. La borsa sale, i maroli, no, il ferri batta il record di autogol e il liste del giudizio universale. Saremo trasmesse dai telegiornali, ma reti unificate, poi sulla pagina 666. Ma prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei casi umani, meno, meno, mani che mai. I buttarmi e i recinti hanno dentro, che la bila, niente ciccia, niente, ma tu giri più leggero bruciando le tue scorte di preservativi. Fiori, fiorello, l'amore è bello, sei ci, sei, tu. A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? Che rete è?